Gigi a tutti ragazzi, sono Alien e oggi sono qui per cercare di darvi informazioni, consigli e possibili strategie per i combattimenti con i mezzi aerei. Lo scopo di questo video è quello di cercare di spiegare a chi magari non è assai pratico con i combattimenti aerei che non sono poi così complicati e non devono spaventare. Analizzeremo sia il combattimento aria-aria, i cosiddetti dogfights, sia i combattimenti aria-terra, le differenze tra i caccia imperiali e quelli ribelli, le strategie d'ingaggio, quindi l'attacco, e le manovre evasive, quindi la difesa. Allora partiamo dalle basi, l'interfaccia. Familiarizziamo un attimo con il concetto di lettura della mappa e degli indicatori. Abbiamo la mappa sinistra nell'angolo basso, teniamo ad occhio il fatto che nelle modalità tipo assalto camminatori, supremazia o punto di svolta, il radar ci indicherà con dei pallini non pieni la presenza dei veicoli sia di terra che di aria. I pallini rossi pieni invece indicano gli eroi presenti sul campo di battaglia. Per quanto riguarda le barre in basso ce ne sono di due tipi, chiaramente la barra della salute in bianco che si illuminerà di azzurro con dei contorni quando attiveremo gli scudi che ricordo sono una prerogativa dei caccia ribelli e occhio qui perché sono sicuro che c'è qualcuno che forse non ci ha mai fatto caso a questo dettaglio. Nella seconda barra se notate bene alla sinistra ci sono delle doppie frecce che indicano la velocità, indicata con il colore giallo, mentre nella parte destra c'è un mirino indicato con un arancione scuro. Contrariamente a quanto si pensi non è una semplice barra che misura la velocità, il fatto che il giallo avanzi quando acceleriamo non significa solo che stiamo andando più veloci ma che stiamo in realtà concentrando tutta l'energia sulla velocità stessa a discapito della potenza di fuoco. Esatto, quindi quando ralentiamo e la barra è più arancione che gialla significa che la nostra potenza di fuoco sarà maggiore, ovvero i nostri colpi laser faranno più male. Dovete immaginarla come una barra che regola la potenza dell'energia, se andiamo più veloci faremo meno male quando spareremo, quando saremo più lenti faremo più male naturalmente ma saremo anche più facili da colpire. Tenetelo bene a mente quando si dovrà bombardare o ci si dovrà trovare di fronte ad un dogfight. Nella parte destra invece vediamo l'area dei potenziamenti, questi non sono personalizzabili come per i soldati di fanteria, sono standard per i veicoli. Vi è tuttavia uno slot libero che può essere riempito nella modalità squadrone di caccia raccogliendo i power up disseminati per la mappa come il recupero delle abilità più veloce o la riparazione del veicolo o l'acquisizione della nave di fazione eroe. I comandi, cosa molto importante, con R2 o il corrispondente per Xbox spariamo, chiaramente come per tutte le armi primarie abbiamo un sistema di surriscaldamento quindi se spariamo troppo i laser si surriscaldano e non potremo però ricaricarli al volo premendo la ricarica al momento giusto, non funziona così quindi occhio a non surriscaldarli. Con L2, cosa molto importante, sì passatemi il termine, si targhetta o locca, sì lo so è brutto da dire ma è il gergo, si targhetta l'avversario cioè si concentra la mira su di un avversario, lo si piazza nel mirino che però attenzione non serve solo per agganciare lo stesso nemico per poterlo poi colpire con i razzi ma concentra anche la potenza di fuoco dei laser aiutando la mira. Insomma mirare con L2 e poi sparare i laser questo è quello che dovete sapere, è fondamentale. Questo agganciare aiuta veramente tanto ma tanto ma tanto in combattimento, forse è una delle parti più importanti e funziona anche a terra con gli avversari di fanteria anche se in maniera meno evidente. Una cosa molto importante è che con i tasti direzionali si effettuano manovre evasive ma di tipo diverso ma ne riparleremo a tempo debito. Con il pulsante direzionale giù invece si cambia visuale passando dalla terza alla prima ma anche di questo poi ne parleremo più approfonditamente tra poco. Beh che differenza c'è tra i caccia imperiali e quelli ribelli e quali sono i caccia migliori da usare? Beh i ribelli vincolo e non perché sono di parte ma perché semplicemente sono praticamente agili quanto quelli imperiali con la differenza che possono utilizzare gli scudi come potenziamenti. Ora gli scudi rendono i caccia ribelli momentaneamente molto più resistenti e possono essere utilizzati anche come mezzo d'attacco a modi kamikaze e non solo come metodo difensivo e qui immagino che molti siano al corrente del fatto che con un millennium falgon si possa letteralmente one shotare uno slave primo la nave di baba fap andandogli semplicemente addosso no? Gli imperiali invece che non sono dotati di scudo hanno un boost che dovrebbero renderli molto più agili e difficili da inseguire cosa che alla fine dei conti non è del tutto funzionante cioè in genere un buon pilota riesce a fregare un imperiale senza che ci siano troppi sforzi anche quando questo comincia a scappare come un dannato. Non perché i caccia imperiali non siano agili ma perché quelli ribelli non sono così poco agili non c'è molta differenza in termine di agilità tra le due fazioni ecco entrambe le fazioni hanno poi un razzo nello slot di destra a ricerca naturalmente ok ma qual è il caccia migliore di tutti? È l'A-Wing o ala A, ribelle naturalmente questo perché è leggermente più difficile da vedere rispetto agli altri visto le sue dimensioni al secondo posto ci piazziamo l'ala X o X-Wing dei ribelli un classico al terzo posto ci mettiamo l'interceptor degli imperiali e all'ultimo sempre degli imperiali ci mettiamo il TIE Fighter per sempre per un discorso di dimensioni meno evidenti più si confondono nella battaglia meglio è. Ora mi devo davvero soffermare sui caccia degli eroi davvero dopo che vi ho mostrato già quanto è OP il Millennium Falcon no dai velocemente il Millennium Falcon per i livelli chiaramente dispone dello scudo di uno scatto veloce tipo quello degli imperiali e di un razzo è un po' meno agile di tutti gli altri veicoli più piccoli chiaramente ma ripeto è un vero e proprio carro armato volante e con lo scudo attivato può fare pulizia e passare attraverso qualsiasi aereo facendolo a pezzi uscendo indenne lo slave primo invece ha due razzi a ricerca e un disturbatore quando viene attivato è praticamente impossibile agganciarlo ma non lo rende immune dai colpi significa che se si è praticamente dietro e abbastanza vicini si può sparare tranquillamente e far danno con i laser poi sta al pilota dello slave capire che deve evitare di avanzare in linea retta quando lo slave piazza il jammer del radar vedrete sul veicolo un'inconcina quindi sarà inutile cercare di agganciarlo bene ora parliamo delle manovre di ingaggio regola numero uno tenere il dito quasi fisso su l2 non è una buona idea primo perché quando agganciate il pilota aspetto comincia a scappare quindi questo vi porta a cominciare il dog fight che bisogna cercare di finire quanto prima perché fino a quando si è uno contro uno va bene i problemi nascono quando il dog fight dura troppo e venite agganciati da un altro nel frattempo due perché va usato con condizioni di causa specie nella modalità squadrone di caccia dove ci sono tanti tanti avversari umani e non e potreste perdervi tra tutti i lock che scatenerete tenendo sempre solo premuto l2 l'ideale è cercare di agganciare quando si è coscienti che l'avversario magari non ha ancora realizzato che siamo dietro di lui cercare di ridurre la distanza sparando non in modo continuativo ma a tocchetti con brevi pause tra una raffica e l'altra così da evitare di surriscaldare i laser e rimanere a secco per qualche secondo i razzi andrebbero usati solo quando l'avversario se possibile se già giocato la manovra evasiva perché in quel caso non dovrebbe essere in grado di evitarlo quel razzo se il dog fight dura troppo in modalità squadrone di caccia abbandonate lo scontro e concentratevi su un altro magari cambiando completamente traiettoria perché presto o tardi appunto qualcuno potrebbe cominciare a puntarvi scegliere avversari facili è sempre preferibile piuttosto che intestardirsi su di uno solo chi gioca a battlefield sa che può capitare di cominciare a girare in tondo durante i duelli beh il consiglio è quello di non fare questo gioco e usare traiettorie irregolari come sappiamo in picchiata guadagniamo velocità quindi il consiglio è quello di accelerare cadendo in picchiata per poi rallentare di colpo e girarsi in questo caso si guadagna velocità e ci si gira prima dell'avversario è in pratica la classica manovra di inseguimento ha un consiglio che vale sia per l'attacco che per la difesa meno in linea retta si viaggia meglio è viaggiare in linea retta ci rende sempre bersagli facili passiamo alle manovre evasive dunque come avevo anticipato prima ci sono tre comandi che possiamo dare con i tasti direzionali un giro della morte evasivo premendo il pulsante direzionale su oppure due avvitamenti uno a destra se premiamo a destra e uno a sinistra se premiamo a sinistra qual è la differenza beh essenzialmente il giro della morte evasivo si fa quando abbiamo qualcuno in coda e oltre a sentire il suono del locking avrete l'indicatore che vi dice da quale direzione ci stanno puntando mentre gli avvitamenti sono utili quando gli avversari ce li abbiamo di fronte i classici uno contro uno a chi si scansa prima mettiamola così utilizzare il giro della morte è qualcosa che si può fare in due casi a quando il nemico ci ha lanciato un razzo e quindi con questa manovra dovremmo automaticamente evitarlo lo stesso razzo b quando il nemico ci comincia a sparare con i laser o sta per puntarci e vogliamo evitare che cominci a sparare una volta eseguito il giro della morte è comodo scendere in picchiata rallentare e voltarsi verso l'avversario richiede pratica ma funziona ve lo assicuro chiaramente sempre quando abbiamo il nemico in coda durante o prima di questa manovra evasiva possiamo attivare lo scudo oppure spararci la mega accelerata aiuta la manovra dell'avvitamento serve quando sappiamo che l'avversario ci sparerà perché è di fronte a noi e ci sta venendo addosso quindi loccate sparate il razzo e premete destra o sinistra questo dovrebbe evitare che a l'avversario ci finisca addosso b che ci colpisca con il suo di razzo e ci dovrebbe mettere in una posizione più vantaggiosa perché dovremmo fare meno strada per girarci verso di lui potenzialmente potremmo già essergli in coda e finirlo le migliori manovre evasive sono quelle che ribaltano la situazione le traiettorie sono sempre i regolari mai lineari questa è una delle regole base scendere in picchiata ci fa diventare più veloci e le frenate brusche ci fanno girare prima bene direi che è più che sufficiente per i dogfights ma come funzionano invece i bombardamenti o comunque i combattimenti aria terra regola fondamentale prima di cominciare qualsiasi attacco a terra dobbiamo essere certi che non ci siano avversari in aria che ci stiano lì a rompere le scatole è rischioso attaccare a terra quando c'è anche un solo caccia nemico nell'aria lo scopo dei normali caccia ad eccezione dell'airspeeder è quello di pulire i cieli e poi nei ritagli di tempo rompere le scatole a fanterie ma soprattutto ai mezzi come a tts o a t at quando gli scudi sono abbassati o anche rompere le scatole a chi è alle torrette beh cosa importante ci si deve allontanare dal centro della mappa bisogna cercare di scendere ma non in picchiata assoluta perché più scenderemo in picchiata meno tempo avremo per bombardare bisogna quasi sorvolare la zona naturalmente bisogna premere l2 per agganciare i nemici nella zona che noi immaginiamo piena e sparare anche qui con brevi raffiche non dobbiamo intestardirci nel voler uccidere per forza qualcuno ad ogni picchiata o se magari vediamo un mezzo quasi distrutto e manca magari quel pochettino meglio non rischiare se siamo già troppo bassi tanto ci possiamo ritornare non vale la pena sacrificare il nostro mezzo per una singola uccisione ora in generale io utilizzo una tattica mista uso la visuale in terza persona per cercare di capire dov'è il grosso dei nemici e metto la visuale in prima per avere quel lievissimo zoom che mi permette di essere un po più preciso ma usare la terza persona sempre comunque non è un errore diciamo che la visuale in terza persona è d'obbligo per i dogfights per i bombardamenti in certe occasioni la visuale in prima è utile ma non sempre dipende prima ho parlato del ruolo dell'airspeeder t 47 non è un normale caccia estremamente lento non è adatto ai combattimenti aerei uno perché il suo rato di fuoco è minore rispetto agli altri caccia due è indubbiamente un veicolo aria terra definitivo ed è molto lento comunque permette anche di muoversi appena verso i lati modo tale da essere davvero pericoloso con questi spostamenti laterali anche perché è molto stabile lo scopo dell'airspeeder nelle modalità assalto camminatori è quello di agganciare il cavo attorno alle gambe di un camminatore girarci intorno e farlo cadere un buon pilota di spider può decidere anche da solo le sorti di uno scontro ricordo che l'airspeeder è un veicolo solo ribelle gli airspeeder si trovano durante l'ultimo ciclo dei camminatori e sono fondamentali consiglio di fare pratica nella missione di addestramento invasione perché così potete prendere confidenza con questo meccanismo che vi spingerà a premere triangolo y che sia quando sarete vicini ad un camminatore per cominciare a fare un giro intorno ad esso una volta agganciati dovrete muovere la levetta analogica a destra in alto o in basso cercando di restare entro quell'aria trasparente se uscite fuori il cavo si spezza e dovrete rifare la manovra più giri vengono completati più l'aria si restringe più è difficile restarci dentro subire danni durante questa operazione destabilizza il vostro spider quindi è importante che non ci sia nessuno che vi stia sparando in quel momento quindi l'airspeeder è l'arma definitiva contro camminatori ma anche contro fanteria e mezzi a terra un vero e proprio spasso non ha razzi o un boost tipo quello degli imperiali come potenziamento sinistro ed un radar jammer il disturbatore con il potenziamento destro come per lo slave primo dovete utilizzare il jammer non appena cominciate a sentire che qualcuno vi punta perché in quegli istanti sarete immuni e potrete bombardare con più tranquillità anche qui andate quanto più lenti possibili e il gioco è fatto anche il t 47 ha le tre manovre evasive da utilizzare quando un razzo ci sta puntando e siamo a magari accorto di jammer quindi ricapitolando se avete un t 47 airspeeder il vostro scopo quando gli at e t hanno gli scudi abbassati è quello di tentare l'aggancio senza pensarci su due volte mentre se avete un a o un x wing quando l'aria è sgombra o in quel momento nessuno vi minaccia cercate di colpire i camminatori con razzi e laser farete parecchi danni ultima cosa l'airspeeder non ha la barra dove fare il gioco del più si va lenti più danni si fanno ha una singola barra gialla e basta andare lenti serve a voi per essere più precisi e passare più tempo a bombardare bene amici mi credo che sia davvero tutto non credo diventerete tutti dei maverick provetti dopo questa guida ma sono sicuro che potrete trovare utili queste linee guide magari potreste essere più incoraggiati e meno titubanti nel voler usare i mezzi aerei missioni da destramento e squadrone di caccia sono le modalità ideali per fare pratica quando vi sentirete pronti allora potete provare anche la modalità assalto camminatori un vero e proprio spasso quando si gioca con i ribelli grazie per essere stati in mia compagnia alien vi saluta e che la forza sia con voi grazie a tutti